Prima un boato, poco dopo un altro scoppio, questa volta ancora più potente e assordante in pochi secondi. Una sequenza iniziata alle 16.45 e questa l'ora della tragedia che si è abbattuta sulla fabbrica deposito di fuochi d'artificio di Vito Costa e De Figli nelle campagne di Barcellona Pozzo di Gotto. 5. Le vittime. Mohamed Taher Mannay di 39 anni, saldatore tunisino in Italia da 10 anni, Giovanni Testaverde 34 anni, dipendente della ditta di fuochi pirotecnici, Fortunato Porcino 36 anni, Vito Mazzeo di 23 e Venera Mazzeo di 71 anni, la moglie del titolare della fabbrica. Nell'ospedale di Milazzo sono stati ricoverati con ustioni e in gravi condizioni Bartolomeo Costa, 37 anni, figlio del proprietario e Antonio Bagnato, anche lui lavora nella ditta. Il giorno dopo la tragedia prosegue la bonifica dell'aria da parte dei vigili del fuoco per la presenza di materiale inesploso. Sul posto il nucleo investigativo antincendi del corpo per l'accertamento delle cause. La doppia esplosione sarebbe stata causata dalle scintille prodotte da un flex utilizzato da operai di una ditta esterna per lavori di saldatura per sistemare dei cancelli. Aperto un'inchiesta per strage colposa. Stiamo cercando di fare il punto della situazione che presenta diversi aspetti da chiarire. Nella notte si è trattato soprattutto di lavorare per mettere in sicurezza il sito da parte dei vigili del fuoco del genio militare, che è presente dei rischi per la presenza di materiale esplodente, lo ha detto il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotte, Emanuele Crescenti. Dall'inchiesta a pestaggio colposa arriva la conferma che fossero in corso dei lavori di manutenzione quando si è verificata l'esplosione che ha provocato la morte delle cinque persone. La struttura era composta da 16 locali separati su cui incombeva l'obbligo della messa in sicurezza. Per questo stava intervenendo la ditta esterna e gli operai stavano sistemando alcuni cancelli con delle saldature. L'esplosione sarebbe dovuta, conclude il procuratore, a una poca attenzione in questi lavori che ha subito interessato alcuni locali con un effetto domino sugli altri.